Una discarica di pneumatici andata in fiamme in località Campolongo di Eboli. L'incendio si è verificato mercoledì notte ed è interessato un'area di 70 metri quadri. Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che in un'ora sono riusciti a domare il vasto incendio dal quale si è sprigionato del fumo nero altamente inquinante. Dai primi rilievi sembra che l'origine del rogo sia dolosa. L'episodio mette in evidenza ancora una volta la problematica dell'abbandono rifiuti nelle aree periferiche del territorio e di tutta la Piana del Sene.